Che cosa è? È la mia ocarina. Non toccare la mia ocarina. E cosa sono queste cose? Si tratta di fumetti manga. Non toccarli, sono delicati. E che cosa è questo? È il mio computer portatile. Anche quello è molto fragile. Stai attento. E quello che cos'è? Questo è il mio cellulare. Basta, esci dalla mia camera. Perché? Perché mi dai fastidio? Perché? Va bene, vattene.